Questo è ciò che è stato determinato da anni di grandi crisi e di difficoltà a partire dagli anni storici del 2008 in poi. La Sicilia da questo punto di vista paga negli ultimi vent'anni una perdita fortissima di posti di lavoro così come nel Paese. Questo è il momento della ripartenza, per fare questo bisogna mettere in campo politiche di rilancio sul lavoro, politiche attive, grandi competenze, riqualificazione del personale, ma unirla assieme a condizioni di realizzazione degli investimenti del PNR e di investimenti privati che possano generare la condizione di ripresa economica e quindi di rilancio dei livelli occupazionali. Questa ragione ha tante precarietà, vanno recuperate, questa è la condizione storica per farlo.